Record di ascolto anche per la terza serata del Festival di Sanremo, quasi 11 milioni di telespettatori, oltre il 51% di share, battuti i dati dell'anno scorso e attenzione, il maggior dato dal 1999, solo che il 1999 era un'altra era, c'erano molto meno televisioni, quindi un dato veramente rilevante che porta tanti soldi nelle casse della RAI e c'è da chiederci a questo punto se anche sia un pochino da rivedere la convenzione con il Comune di Sanremo, insomma se il Comune di Sanremo voglia chiedere qualche cosa di più. Ieri sera una serata all'insegna dei cantanti e di bravi ospiti, su tutto a Virginia Raffaele, poi il duetto di Taylor con Giorgia, i Negramaro che hanno cantato poster assieme a Baglioni e lo struggente ricordo di De Andrè e di Bindi da parte di Gino Paoli. Stasera ci saranno altri duetti, Gianna Nannini con Baglioni, Piero Pelù con Baglioni, attenzione, in ricordo di Battisti, quindi sarà veramente un momento toccante e interessante e sapremo anche i vincitori delle nuove proposte. Una curiosità, dopo tanti anni, striscia la notizia di Antonio Ricci, è tornata ad occuparsi del festival dopo le feroci critiche del patron a Baglioni. Anche questo è interessante all'inizio della serata quando c'è il pre-festival, che devo dire non è granché, curiosare un po' da una parte e dall'altra. Ricordiamo infine che domenica alle 15 a Roof Garden del Casinò c'è l'evento della stampa organizzato con la città di Sanremo e il Comune, in ricordo dei tanti liguri che hanno partecipato al festival di Sanremo. Ci saranno tanti bravi cantanti, tra cui segnaliamo Vittorio Descalzi che ha sette partecipazioni con i New Trolls, Franco Fasano che come autore l'ha vinto una volta con Anna Ox e Fausto Leali e Monia Russo. Arrivederci a domani.